UEFA Football, una delle piattaforme più utilizzate soprattutto negli ultimi periodi. Ma effettivamente si tratta di una piattaforma legit oppure si tratta di una piattaforma che vuole scammare e che trufferà tutti i suoi utenti? Dalle ricerche che ho fatto, anche molto approfondite, mi sono reso conto purtroppo che questa piattaforma, secondo il mio parere, andrà effettivamente a truffare tutti gli utenti. Non so dirvi bene come o quando, però sono abbastanza convinto che questo business non sia assolutamente sostenibile sul lungo periodo e quindi prima o poi scammerà. Se vuoi sapere tutto quanto più nel dettaglio ho creato un video su YouTube molto più approfondito in cui puoi vedere tutto quanto. Ti piacciono contenuti sugli investimenti, criptovalute, metodi di guadagno online, seguimi qui e anche sugli altri social.